Sondrio è la prima provincia in Lombardia per presenza di edifici residenziali in classe energetica A. Lo rivela uno studio redatto dal Sole24ore in cui si nota come il 14% degli immobili dotato di attestato di prestazione energetica è al livello più sostenibile. La provincia montana è anche l'unica ad avere una percentuale di immobili residenziali in classe F e G inferiore al 50%. Dall'altro lato della classifica regionale c'è la provincia di Pavia con appena il 6% degli immobili in classe A mentre a Milano e a Lecco ci si fermano il 7%. La media a Lombarda è pari all'8,5%. In numeri assoluti si tratta di 103.000 edifici su un totale che supera il 1.300.000 che hanno raggiunto almeno la classe energetica A. Il dato è aggiornato alla fine di aprile di quest'anno ed è stato comunicato da Aria, l'azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti che fa capo al Pirellone. Fine settimana di grande lavoro per i tecnici del soccorso alpino impegnati in Valtellina Valchiavenna. Proprio nella giornata di domenica un uomo di 54 anni ha perso la vita in seguito a un malore. L'escursionista si trovava con un amico lungo la ferrata situata sopra l'abitato di mese. I due avevano praticamente completato l'ascesa quando l'uomo si è sentito male. Immediata la richiesta dell'aiuto sono giunti il soccorso di Bergamo di Areu e le squadre territoriali della stazione di Chiavenna della settima delegazione del soccorso alpino insieme al soccorso alpino guardia di finanza. Una volta sul posto però il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sempre domenica al mattino i tecnici della stazione di Valmalenco sono intervenuti per una bambina che aveva avuto un malore nella zona del rifugio del Grande Camerini. La ragazzina quindi è stata portata in ospedale. Un altro intervento dei volontari del soccorso alpino è avvenuto al Pizzobadile. Una cordata composta da due persone è stata investita da una scarica di sassi mentre stavano risalendo la via normale circa metà parete. L'uomo ha riportato ferite alle braccia e alle gambe. La ragazza aveva una contusione alla caviglia. La stessa scarica ha coinvolto una seconda cordata che si trovava più in basso. Un alpinista è stato colpito dai sassi ed è precipitato per alcuni metri procurandosi i vari traumi. I due alpinisti sono stati recuperati e trasportati nella piazzola in Valmasino quindi in ospedale. I tecnici della stazione di Madesimo sono invece intervenuti sabato prima per una ragazza caduta sulla pista di Downhill in zona Quarela. Poi un altro intervento è stato effettuato a Campodolcino a quota 2050 metri per un malore al rifugio Chiavenna all'Alpe Angeloga. In entrambi i casi le vittime non sarebbero in gravi condizioni. La Giunta regionale Lombarda ha deciso i criteri per l'inquadramento nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell'iniziativa regionale denominata Bando Piccoli Bacini volta a garantire contributi per l'ottimizzazione della gestione della risorsa idrica nei territori montani per la realizzazione, ripristino e la manutenzione straordinaria di piccoli bacini e di sistemi di raccolta e stoccaggio delle acque nonché dei relativi sistemi di adduzione e distribuzione. Si tratta di un bando innovativo, spiega l'assessore regionale Massimo Sertori, destinato a soggetti di natura pubblica privata, quali comuni montani o parzialmente montani e le loro unioni, comunità montane, imprese agricole, imprenditori agricoli, proprietari e gestori di malghi, alpeggi e rifugi e consorsi forestali d'alpeggio. Il bando aprirà entro la fine del prossimo mese di luglio con una dotazione finanziaria di 5 milioni e 600 mila euro. Le altre note, Valtellina Festival torna a partire dal 25 luglio. Siamo molto felici della tredicesima edizione delle altre note Valtellina Festival. Sì, effettivamente partiamo, la data ufficiale è il 25 luglio in Val di Sotto, con un concerto a cui teniamo moltissimo, che fa parte di un rapporto di collaborazione con il Festival Provincia Sonora di Porto. Vi è, a dire la verità, il 20 luglio un'anteprima presso il Belvedere di Palazzo Lombardia, voluto dalla Presidenza della Regione e di cui siamo ovviamente molto onorati e grati. Poi il Festival si protrarrà fino al 21 settembre, con il concerto conclusivo all'auditorium del Fondazione AM a Milano, dedicato allo scioglimento degli acciai e che vedrà anche la partecipazione della professoressa Elisabetta Dallò in una conferenza sui cambiamenti climatici e i cambiamenti antropologici. È un cartellone nutritissimo, impegnato, infatti il titolo del Festival è Armonia Mundi, notturno, che guarda anche agli eventi attuali con trepidazione e partecipazione e confidando nella potenza dell'arte che possa far volgere le cose per il meglio e per il bello. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.